Ok, ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati nuovamente sul canale. Buon lunedì e buon inizio settimana. Oggi parliamo di Tex, di Tex Wheeler, dell'ultima storia della serie regolare, diciamo, di Tex Wheeler. Ma io, prima di iniziare questo video, voglio fare una premessa. Perché questa storia, purtroppo, non mi è piaciuta, non l'ho gradita. Ecco, ve lo dico già subito, ve lo confido, ecco già, in apertura di questo video. Ovviamente non succede niente di male, nel senso che nessuno si arrabbia, nessuno si mette a piangere, nessuno si nervosisce. Perché può capitare che ci siano delle storie che si apprezza meno. Può capitare, succede in tutte le testate e non dobbiamo mai scordare che i fumetti di cui noi amiamo conversare sono serie che esistono già da tanti anni, che hanno già superato le centinaia di albi pubblicati, quindi di storie edite, ed è perfettamente normale, come credo, insomma, che ogni tanto ci si trovi di fronte a delle storie che risultano meno riuscite di altre, anche se ovviamente è tutto quanto soggettivo. Perché dipende dal nostro gusto, dal nostro gusto personale. È chiaro che quello che può non piacere a me, qualcun altro lo può amare. Ed è anche un po' il bello del parlarne pubblicamente su YouTube, ma su qualsiasi altra piattaforma. Noi adesso siamo su YouTube e il bello è quello, no? Il ricevere commenti di persone che ti dicono la storia che tu non hai gradito, io l'ho apprezzata molto, o viceversa. E di conseguenza scambiarsi i relativi pareri. Puntualizzo però questa cosa, prima di immergermi, diciamo, nell'analisi, tra tante virgolette, di questa storia, perché parlare di un'avventura che non si è gradita è tremendamente difficile. Ecco, è molto difficile parlare di un qualcosa che non ci piace. Ed è molto facile, almeno per me è molto semplice, parlare di un qualcosa che ho gradito, che mi è piaciuto. Le nostre critiche, le mie, ma credo anche quelle di qualsiasi altro, di qualunque altra persona che appunto si espone pubblicamente parlando di tali argomenti, è assolutamente soggettiva. Io non critico mai il personaggio, ma critico la singola storia, il singolo albo. Quindi non ho nulla contro il personaggio in questione, e forse è proprio quel mio amore, quella mia affezione al personaggio che mi spinge a rimanere deluso, no, fondamentalmente, ma deluso bonariamente, ovviamente, come ho detto prima, circa la storia in questione, la storia che non si è gradita. Se io, amando Tex, per esempio, perché parliamo di Tex, dicessi che ogni storia di Tex mi è piaciuta ed è fantastica ed è stupenda solo perché riguarda il personaggio di Tex, automaticamente perderei la mia obiettività sul personaggio e sulla testata e sulle storie in questione. Per cui quello che cerco di fare io e che cercano di fare anche fondamentalmente tutti gli altri è quello di essere obiettivo, di cercare di mantenere la propria obiettività, andando a criticare, ma a criticare fino a un certo punto, anche le storie che non mi sono piaciute circa il determinato personaggio. E dopo questa lunga premessa, inoltriamoci nella presentazione di questa storia che si intitola Sull'Alto Missouri, anche se in realtà io non so quale sia il titolo esatto perché abbiamo a che fare con una storia che si suddivide in cinque albi, quindi, come potete vedere, è una storia piuttosto corposa e ovviamente ogni albo presenta un titolo differente, quindi io effettivamente non so quale sia il titolo di questa avventura. Per comodità scelgo il titolo del primo albo che apre questa avventura. Avventura che è compresa fra gli albi numero 29 e 33 della serie Tex Wheeler, la serie che va ad indagare il giovane Tex prima che diventasse un Ranger quando ancora era un giovane fuorilegge braccato dalle autorità. Abbiamo Mauro Boselli, autore del soggetto e della sceneggiatura di questa storia. Mauro Boselli lo conosciamo tutti quanti, è il curatore di Tex, delle serie di Tex, nonché anche lo sceneggiatore di quella che è una delle più importanti storie del personaggio di Tex, ovvero il passato di Carson. Il passato di Carson fu la prima storia che Boselli scrisse per Tex e come ci viene un po' spiegato dalle note introduttive dei vari albi che compongono questa avventura, questa storia è un po' il prequel del passato di Carson, quindi anche piuttosto interessante da questo punto di vista. I disegni invece sono affidati a Pasquale del Vecchio, al grande Pasquale del Vecchio, mentre invece delle copertine si è occupato ovviamente Maurizio Dotti che è il copertinista ufficiale di questa testata di Tex. Come potete vedere delle copertine magnifiche, io non ve le sto facendo vedere in ordine perché questo è il numero 33, mentre invece questo è il numero 29. Delle copertine bellissime, come potete vedere dipinte, veramente sono fantastiche, Dotti è un grandissimo artista, che ci vanno un po' ad illustrare tutto quello che noi troveremo nel corso di questa avventura. Guardate che bella questa copertina dove sullo sfondo, diciamo, di questa scena di battaglia compare il mezzo busto del giovane Keith Carson che sarà uno dei protagonisti assoluti di questa vicenda. Compariranno anche gli indiani, come potete vedere da questa altrettanto magnifica copertina. E per ultima, diciamo, vi mostro la copertina dell'albo numero 30 dove possiamo trovare una copertina incentrata su Tex, appunto, che poi era anche la copertina degli aumenti, no? Perché questa storia è iniziata prima degli aumenti, infatti come potete vedere questo numero presentava ancora le vecchie, no, seconde di copertina in bianco e nero, nonché il prezzo non aumentato, il prezzo di 3,20 euro, i successivi due numeri erano quelli recanti le medaglie e quindi annuncianti gli aumenti, no? Le medaglie in questione erano quelle di Keith Wheeler e di Tiger Jack che io vi mostro, ma voi già le conoscete perché ormai è già passato tempo da queste medaglie, anche con il nuovo telefono non riesco a mettervele a fuoco come si dovrebbe, ma insomma queste erano le medaglie giusto per una marcord, no? Delle delle medaglie della Bonelli che io ho tutte lì ho questa scatola manco sembrano i gettoni, no? da mettere nelle slot machine non so ancora che cosa farmene di queste medaglie. Va bene, allora di che cosa parla questa storia? È una storia molto complicata come spesso ci ha abituato Mauro Boselli. Keith Carson che già all'epoca era un ranger anche se molto più giovane rispetto a quello che noi conosciamo oggi quindi aveva come si può vedere da questa copertina il pizzetto e i capelli neri Keith Carson un Keith Carson trentenne è sulle tracce di un di uno spietato assassino messicano un tale Riccardo Gomez che si è reso responsabile anche dell'uccisione di molte donne e molti bambini a cui addirittura ha rimosso lo scalpo Riccardo Gomez sta fuggendo verso nord quindi verso il Montana e Keith Carson è sulle sue tracce parallelamente anche Tex si sta spostando verso nord assieme a due texani marito e moglie Lily e Birdie ma Tex ha un conto in sospeso con un tale Brad Hannigan che anche lui è un bandito un fuorileggio insomma colpevole di aver controllato un un commercio di di pellicce illegali fondamentalmente questo Brad Hannigan è in rapporti con Riccardo Gomez né Tex e né Carson sanno della presenza l'uno dell'altro in questa vicenda e dopo varie peripezie che riguarderanno villaggi indiani differenti tribù indiane processi e cose varie la vicenda diciamo culminerà in un in un forte chiamato Fort Owen appunto sito nel montano comunque in quelle zone dove tutto quanto un po' si andrà a convergere in uno scontro finale questa è a grandi linee la trama ovviamente io non ve la spiego tutto quanto non ve la riassumo perché ci vorrebbe un video di 18 ore per riassumervi tutti gli avvenimenti che accadono in questi cinque albi e poi non avrebbe senso farvi spoiler per cui io vi ho mi sono limitato un po' diciamo a darvi un po' l'incipit di quella che è la trama che poi voi andrete a scoprire qualora siate interessati quindi qualora compriate e leggiate questi questi volumi diamo un'occhiata ai disegni di Pasquale del Vecchio vi scelgo qualcuno dei primi albi in maniera tale da non mostrarvi qualcosa che potrebbe urtarvi diciamo qualcosa che potrebbe spoilerarvi come potete vedere Pasquale del Vecchio ha fatto un grandissimo lavoro guardate questi questi volti quanta espressività c'è nei volti di Pasquale del Vecchio che noi in realtà ben conosciamo perché è uno dei disegnatori che da tempo si occupano delle storie di Tex quindi ne conosciamo bene il tratto lui ha uno stile molto un tratto molto chiaro come potete vedere non ci sono neanche nelle scene notturne ecco questa per esempio è una scena notturna però potete vedere quanto sia ugualmente chiaro il tratto di Pasquale del Vecchio chiaro e quindi comprensibile leggibile veramente molto molto intuibile il disegno di del Vecchio lui è come se ci raccontasse tutto quanto disegnando e quindi noi non dobbiamo fare nessuno sforzo di immaginazione per comprendere quello che poi lui effettivamente lascia sulle tavole il suo segno è assolutamente comprensibile e chiaro a me piace moltissimo come lui appunto ritrae i primi piani dei personaggi qui per esempio vediamo il Riccardo Gomez che con tanta enfasi sta ricercando Kit Carson e insomma su Pasquale del Vecchio che cosa dire sono disegni fantastici quelli di Pasquale del Vecchio in particolare beh guardate anche come ritrae i paesaggi quindi i vari ambienti come usa sapientemente le ombre non andando ad appesantire troppo il il disegno ed ecco qui il giovane Kit Carson che compare come potete vedere un Kit Carson trentenne e insomma i disegni di Pasquale del Vecchio sono veramente incredibilmente fantastici anche quando deve rappresentare molti personaggi nelle stesse vignette risulta veramente sempre sempre efficace ed efficiente per cui dal punto di vista insomma grafico questa storia è meravigliosa che cosa non mi è piaciuto io ho trovato questa storia estremamente allungata nel senso che Mauro Poselli è come al solito bravo a mettere in scena delle trame anche piuttosto complicate che poi si vanno a convergere tutte quante in un unico punto che poi noi ovviamente conosceremo nel finale in questo caso in questo album numero 33 sfida a Fort Owen con questa copertina meravigliosa questi personaggi poi che ovviamente assistono Tex li ritroveremo nel corso della vicenda anche se non entreranno almeno uno dei due questo personaggio non entrerà in scena subito secondo me però il fatto di allungare così la storia inevitabilmente crea dei tempi morti fondamentalmente che risultano anche piuttosto noiosi credo che risultino noiosi anche al disegnatore perché per esempio in questo albo che è il numero 31 lo sciamano dei Crove con questa copertina di dotti che già suggerisce quello che noi troveremo all'interno perché questo albo fondamentalmente si incentra su degli indiani quindi delle differenti tribù di indiani che Tex e i suoi alleati troveranno nel corso del cammino si imbatteranno nel corso dell'avventura una parentesi indiana che non è che risulti così fondamentale diciamo alla trama alla trama principale va un po' ad allungare il brodo e risulta secondo me anche piuttosto noiosetta perché nella stragrande maggioranza delle tavole che compongono questo albo Tex e soci fondamentalmente non fanno altro che chiacchierare attorno al fuoco dentro una tenda e ci sono pagine 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 di dialoghi che risultano inevitabilmente pesanti anche Pasquale del Vecchio pur essendo bravissimo non riesce a fare miracoli perché quando tu hai tavole e tavole di personaggi che non fanno altro che parlare attorno al fuoco inevitabilmente finisci per ripeterti come potete vedere le vignette si assomigliano un po' tutte quante perché il disegnatore non può fare miracoli quando quando tu hai decine di pagine in cui questo albo si compone di 60 66 pagine saranno non lo so 62 64 di storia grosso modo su 62 pagine di storia almeno una trentina sono di dialoghi intorno intorno alla tenda forse anche di più di 30 quindi anche per un disegnatore diventa diventa difficile insomma realizzare un qualcosa di interessante con i personaggi che sono sempre lì dopo un po' li riprendi di qua li riprendi di là ma dopo un po' le inquadrature inevitabilmente finiscono per 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 ripetersi no e allungare così la storia non so quanto senso possa avere anche perché qui abbiamo a che fare con 5 volumi 5 volumi sono tanti che escono come sappiamo una volta al mese quindi uno fondamentalmente ha due modi per leggersi questa storia o fa come ho fatto io quindi io ho aspettato di avere di entrare in possesso di tutti gli albi di questa storia prima di iniziare a leggermela e quindi l'ho letta velocemente perché l'ho letta tutta di sepito oppure uno se la legge mese per mese quindi ogni mese si legge un singolo albo e tenere a mente tutte queste vicende non è semplice quindi leggendola mese per mese senza aspettare può diventare anche seriamente difficile perché poi ovviamente non avendo solo quella come lettura uno rischia veramente corre veramente il rischio di dimenticarsi ciò che ha letto il mese successivo sì mi direte voi c'è il il riassunto sempre ovviamente in seconda di copertina ci mancherebbe però anche con il riassunto non è che risulti così immediato diciamo ricordarsi a menadito quello che è capitato nel nel corso dell'avventura successiva i disegni di Pasquale del Vecchio facilitano perché lui è in grado di tratteggiare diversamente ogni singolo personaggio e questo fa perché alcuni disegnatori ritraggono i personaggi in maniera molto simile quindi tu inevitabilmente finisci per confonderti confondendo appunto i vari personaggi qui non accade perché Pasquale del Vecchio è bravissimo e quindi riesce a tratteggiare diciamo a caratterizzare sia come aspetto fisico ma anche come abbigliamento i vari i vari personaggi però inevitabilmente è una storia allungata secondo me è troppo allungata è tirata per le lunghe ci sono tanti dialoghi che ci sono tanti personaggi tante situazioni anche tutta questa parentesi sugli indiani che secondo me non è che fosse poi così fondamentale tutte queste queste situazioni questi personaggi che vengono buttati dentro inevitabilmente finiscono per appesantire la la vicenda e allungarla inoltre adesso io non voglio farvi spoiler però questa storia ci è stata presentata come insomma il vero incontro finalmente fra Tex e Carson dopo che loro si erano soltanto sfiorati di sfuggita nelle in alcune avventure precedenti della saga di Tex Wheeler però qui alla fine questo fantomatico incontro fra Tex e Carson insomma non è che non vi aspettate chissà cosa non vi dico altro però non vi aspettate chissà cosa insomma a conti fatti io personalmente per quello che è il mio personalissimo gusto avrei gradito una storia un po' più fluida un po' meno ingarbugliata un po' più veloce questa è una storia di ampio respiro nel senso che è proprio una storia lenta noi avanziamo lentamente nel racconto e può avere un senso perché effettivamente il western deve avere quegli ampi respiri no abbiamo visto perdonate abbiamo visto i color in questo mese il mese d'uscita dei vari color alcuni color come ad esempio quello di Dampir che io ho comprato presenta delle storie brevi e io credo che l'horror come genere narrativo si presti particolarmente alle storie brevi mentre invece il western secondo me è più adatto a vicende di ampio respiro quindi più a storie lunghe che a storie brevi qui secondo me si esagera un po' però perché insomma cinque albi diciamo che la giusta via di mezzo io per quello che è il mio gusto personale questa storia l'avrei risolta in tre quattro albi ecco al massimo uno l'avrei levato e francamente questo questo numero dove i personaggi parlano 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 dentro una tenda e ci sono tutte queste vicende di questi indiani che non risultano fondamentali per la trama io onestamente l'avrei anche levato e mi sarei più concentrato sul sul fulcro dell'azione quindi sulla ricerca di Carson per quanto riguarda questo bandito sull'incontro fra Tex e Carson sulla sulla resa dei conti a Fort Owen insomma mi sarei concentrato su altre dinamiche tralasciando questi indiani che secondo me non non sono risultati essere di di grande utilità e a mio avviso anche di grande interesse la storia però è giostrata bene i personaggi sono ben caratterizzati dal punto di vista psicologico e caratteriale quindi su questo ovviamente non si può assolutamente dire nulla a Boselli che rimane sempre un signor sceneggiatore dotato di una grandissima cultura questa storia al pari di molte altre di Tex ma più in generale al pari di molte altre di di Boselli mischia mescola la fantasia con la realtà con alcuni personaggi generalmente esistiti con alcune reali vicende ecco accadute all'epoca nel periodo della frontiera per cui sicuramente ci sono molti lati positivi per questa storia che alla fine risulta avvincente il soggetto è interessante secondo me troppo allungata inevitabilmente noiosa questo ovviamente non è che il mio parere sono curioso di conoscere anche la vostra opinione a riguardo se anche voi avete letto questo numero fatemi sapere come l'avete l'avete inteso se anche voi è risultato un po' un po' ostico ecco tutto questo allungare il brodo questi queste queste tematiche diciamo queste sottotrame secondo me non fondamentali oppure se invece avete avete gradito tutto quanto e vi è piaciuto proprio per per l'ampio respiro durato appunto cinque cinque albi io vi ringrazio per l'ascolto e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti